Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La resistenza nella capitale non si spegne neppure durante l'occupazione tedesca. Uno dei fatti certamente più noti e discursi è quello avvenuto in Via Rasella il 23 marzo del 44. Un nucleo di gappisti romani, appartenente cioè ai gruppi d'azione patriotica, assalta un reparto tedesco, in transito, causando la morte di 33 soldati. La rappresaglia, messa repentinamente in atto, esige 10 italiani per ogni caduto tedesco. Le vittime saranno addirittura 5 in più del previsto, 335. Saranno trucidate all'interno di una cava di pozzolana, sull'Eardeatina, alla periferia della città. Da di loro vi sono anche quattro calabresi, l'avvocato Donato Bendicenti di Lodiano, l'impiegato Paolo Frascà di Geracea, il funzionario della corte dei conti Giovanni Vercillo di Catanzaro e il re educe Francesco Bucciano di Castrovillari. Sono tutti esponenti della resistenza romana. Dalle vittime c'è anche Giuseppe Lopresti, un giovane ma già affermato esponente socialista della capitale, nato a Roma da genitori palmesi. Alla medesima organizzazione dei GAP, promossi dalle Brigate Garibaldi per le azioni di guerriglia urbana, fanno riferimento molti altri calabresi. A Imola, in provincia di Bologna, il primario chirurgo dell'ospedale civile, Francesco D'Agostino, di Cassano Loionio, che sarà fucilato il 27 gennaio del 44, e l'operaio Cleo Ricchi di Dinani di Catanzaro, deportato a Mauthausen, dove morirà il 7 aprile del 45. A Bologna ne fanno parte il medico e industriale chimico Biagio Molina di Tropea, trucidato nei pressi di Forlì il 26 luglio del 44, e l'agente di polizia Alfonso Nicotera, di Santa Severina, fucilato il 20 ottobre 1944. Tornando alla capitale, l'attacco finale degli alleati è inizio quando Radio Londra trasmette il messaggio convenuto che contiene la parola elefante. È il 2 giugno 1944. Il giorno dopo i tedeschi fuggono da Roma, non senza lasciare a loro spalle una lunga scia di sangue. Sei prigionieri vengono fucilati sugli spalti di forte bravetta. Due di questi sono calabresi, il carabiniere fortunato Caccamo di Gallina e il poliziotto Giovanni Lupis di Reggio. Entrambi avevano partecipato alla difesa della capitale subito dopo l'8 settembre. Le avanguardie alleate, soldati canadesi ai quali si sono uniti i partigiani di Bandiera Rossa, entro a Roma all'alba del 4 giugno. Nelle stesse ore gli ultimi tedeschi lasciano la città e via Tasso, in particolare, sede dell'SS, portando via 14 prigionieri, che verranno poco dopo trucidati lungo la via Cassia. Tra di essi è il sindacalista socialista Bruno Buozzi. Nella vicina Umbria, vittime dei rastrellamenti tedeschi, sono il carabiniere Pietro Filice di Pedace e lo studente Pietro Corsaro di Reggio. Filice è arrestato il 27 marzo a Costacciaro e trasferito a Perugia, dove viene fucilato insieme ad altri giovani nei pressi del cimitero di Ponte della Pietra. Corsaro, che è sfollato con la famiglia Nocera Umbra, frequenta l'azione cattolica di Foligno, una fucina di resistenti Umbri. Si unisce a loro a Mosciano, dove la parrocchia di Don Alfonso Guerra è divenuta la base partigiana del battaglione Mameli. Ai primi di aprile, in vista di un improbabile attacco tedesco, il battaglione decide il trasferimento a Colle Croce, a circa mille metri di altezza. Ma è una scelta sbagliata. Perché il 16 aprile i tedeschi arrivano in forza e sorprendono gli uomini del Mameli. Corsaro è colpito, mentre alla guida di un gruppo di ex prigionieri montenegrini tenta di mettersi e di metterli in salvo lungo il sentiero che porta al Monte Pennino. Nelle Marche, i primi partigiani si riuniscono nell'area del Monte San Vicino, al confine tra la provincia di Ancona e di Macerata. attorno al tenente di complemento Mario Batà di Roma e a Mario De Panger, un comunista istriano. Con quest'ultimo è Giuseppe Pace di Petiglia Policastro, che troverà la morte il 24 marzo a Chigiano, al termine di una furibonda battaglia che il comandante De Panger è costretto a ingaggiare contro una preponderante forza nemica. Le Marche saranno libere in luglio e alla loro liberazione prenderà parte il sottotente di complemento Egidio Cardona di Reggio, che è divenuto il leggendario comandante Gigi, alla guida del gruppo Tigre. Proseguirà la lotta partigiana al fianco della Popsky Private Army, una formazione militare parallela all'esercito britannico, con la quale prenderà infine parte alla liberazione di Venezia. Scacciati da Roma, i nazisti si portano al nord per realizzare nuove linee di difesa, dal Tirreno all'Adiatico, l'ultima delle quali, la linea gotica, correrà da Massa a Pesaro. Durante la ritirata lungo l'appanino tosco-emiliano sono innumerevoli e cruentissime le rappresaglie consumate dall'esercito tedesco. Prima ancora che il 12 agosto a Sant'Anna di Stazzema e il 29 settembre a Marzabotto, le date ai luoghi più tragici, a Castelnuovo a Val Cecina, in provincia di Pisa, il 14 giugno, 77 minatori del vicino villaggio di Niccioleta, tra i quali Pietro Corriero, emigrato da Pedivigliano, vengono massacrati perché sospettati di intelligenza con le bande partigiane locali. Qualche giorno dopo, il 4 luglio, la stessa sorte tocca a 73 minatori di Castelnuovo dei Sabbioni, in provincia di Arezzo, tra i quali è un altro emigrato calabrese, Natale Uva di Paola. Le brigate partigiane si adoperano in ogni modo per ostacolare la ritirata tedesca, facendo saltare ponti o attoccando le colonne di soldati più isolate. A ridosso della linea gotica, che sarà completata in settembre, si concentra lo sforzo del gruppo Patrioti Apuani, una formazione nata ad opera di un frate domenicano di Montignoso, Pietro del Giudice, che alla fine della guerra sarà primo prefetto di Massa Carrara. Del Giudice, che ha riunito i suoi uomini sul Monte Belvedere, il 31 luglio decide l'attacco alle carceri di Massa, per liberare i prigionieri politici e recuperare armi. Una squadra di 20 partigiani, guidati dal fratello di lui, Alessandro, raggiunge di notte il penitenziario, ma a causa di una delazione, i militifascisti, informati per tempo, si sono disposti lungo il camminamento interno alle mure e scagliano bombe a mano contro gli assalitori. Del Giudice è ferito, ma riuscirà a portarsi in salvo. Troverà invece la morte Giuseppe Minuto di Reggio, figlio di un ferroviere, che ha trasferito la famiglia prima a Milano e poi in Toscana. Nello stesso gruppo partigiano ha trovato da tempo posto anche Giuseppe Fameli di Palmi, a giudizio del suo carissimo amico Giuseppe De Santis, anche egli partigiano, determinatissimo a combattere i tedeschi. Morirà il 4 novembre in territorio di Montignoso durante un combattimento. A fianco dei patrioti apuani è disposto a una formazione garibaldina, la 4ta brigata apuana, nella quale milita Franco Crimeni di Reggio. Resterà ucciso il 18 febbraio 1945 durante il rastrellamento del borgo di Agnino nel comune di Filizzano. Crimeni si è inizialmente mescolato agli abitanti del piccolo borgo disposti sul piazzale della chiesa, ma è riconosciuto per via della pelle un po' più scura.